E' bella ragazzi qui Xwillip ritrovati nel mio canale in questo nuovo video Oggi siamo qua ragazzi ritornati con un gioco che non ho mai portato qui sul canale E' un giochino molto carino per smartphone alla quale sto giocando veramente tantissimo Sicuramente lo conoscerete anche voi Perché stiamo parlando di Brawl Stars Difatti ho le Airpods e non ho le cuffie giganti, i megaloponi di qua Perché sostanzialmente l'ingresso c'è che non ce l'hanno messo quindi Sai che quasi faccio un buco nel flash e ci invilo l'ingresso Jack? Ci potrebbe stare no? Ma comunque sia raga appunto oggi siamo su Brawl Stars Questo qui sarà il primo video su Brawl Stars E qui voi deciderete attraverso i like, attraverso i commenti Se avere altri video in futuro su Brawl Stars oppure no Quindi ragazzi mi raccomando superiamo assolutissimamente i 150 like Se volete altri video su Brawl Stars Mi raccomando controllate che l'ex è andato Cliccatelo per benino figure diventa blu Inoltre condividete questo video per amassare su tutti i vostri social e iscrivetevi al canale Per non perdervi i prossimi video Se lo fate siete dei grandi Bene ragazzi bene allora come potete ben vedere Ho Nita a livello 11 Ho 263 trofei E Nita sostanzialmente è il personaggio che utilizzo di più Poi ho anche una cassa di quelle speciali da aprire E 6 di quelle normali da aprire E ovviamente le apriremo a fine video Per vedere se riusciamo a trovare qualcosa Magari il brawler leggendario ci potrebbe stare Ma dunque bando alle ciance io direi di cominciare immediatamente Qui sta registrando ancora si sta registrando ancora Regà io non mi fido di sta cosa ve lo giuro E' uscita da più di un anno ma io non mi fido e mai mi fiderò Inoltre prima di cominciare vi dico che qua sotto nella descrizione troverete il link al mio clan Quindi se volete unirvi l'ingresso è libero trovate il link qua sotto E affrettatevi perché di posti ce n'è pochi Quindi io direi che possiamo cominciare Allora facciamo un attimino foot brawler Anzi cominciamo dalla classica arraffagemme Cominciamo e andiamo a cercare la nostra partita La nostra prima partita di brawl stars Comunque devo dire che come giochino ci sta Mi sta prendendo veramente tantissimo Regà ci sto giocando un botto Non giocavo così tanto ad un gioco mobile dai tempi di clash royale E il bello che io mi son detto Ma dai non comprare cioè non scaricare brawl stars Perché poi ti ci metti e ci rimani Perché io lo sapevo regà I giochi della supercell possono essere dei giochini I nostri per quel che si voglia dire Perché alla fine è un giochino Però a mio avviso i giochini della supercell sono i migliori giochini per smartphone O se non sono i migliori sono tra i migliori sulla piazza Ecco boom sono morto da quel mito Che non si chiama mito si chiama primo Avevo quattro stelle quattro gemme mannaggia Eh dobbiamo uccidere al primo qua Primo Vuoi morire? Grazie Oddio no 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 Ritirata ritirata Oddio Eh eh ci hanno preso e mi sa Eh sì che hanno qua Mori Mori Perché ti colpisco Eh dai sì Esploso Non l'avrò ucciso io Però qua ancora c'è il primo che ha Mannaggia Guardalo lì Questo qui intanto more Mi piglio le sue quattro gemme Scappiamo da sto qui che Mi sta uccidendo e mi ucciderà Perché non ho più Se l'ho ucciso Bellissimo Regà E se vince Guarda qui che roba No 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 Fermatelo L'ho ucciso L'ho ucciso Prendi tutto Via 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 tantissimo Via tantissimo Via tantissimo Quattordici Quattordici regà A me non interessa nulla combattere Io mi metto da parte Su quattordici gemme Che me frega Stai fermo qua Ragazzi Tre Due Uno E si vince E chi la porta a casa La prima partita Eh Com'è che era il migliore Scusami Siamo quattordici gemme Ho creato un devasto Ed è il migliore Sto tizio qua Ah eh insomma Hai rubato il posto eh A questo punto io direi Andiamo a fare Quello foot brawler Che comunque Mi piace tantissimo Foot brawl Credo sia una delle modalità Più belle Che ci siano su Su sto giochino Perché poi c'è anche Questa qui sopravvivenza No che è tipo un batto royal Però Diciamo che la gente Ha brawl Molto ma molto Più forti di me Cioè io alla fine C'ho un Nita A livello 4 eh Difatti spero anche Di trovare nelle casse Qualche potenziamento Per Nita Così almeno Ce la potenziamo E la portiamo che so A livello 5 Livello 6 Perché comunque Gli altri hanno dei brawl Molto ma molto Più forti è arrivata A sto punto Qua chi ce l'ha la palla Ok Il primo Il primo Ciao il primo Prendi la palla Ai andiamo Nita Corri No 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 Quando mi butta il ketchup No 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 che corre Oddio Raga devo buttarla No Eh ma ha preso Ma ha preso Dobbiamo fermarlo Raga E non c'è nessuno In difesa No E vabbè ha segnato Oscar Palla No 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 Dove è la palla No No è il primo Ha preso la palla Però è il primo Della nostra squadra Quindi va bene No no E qui sono morto Raga non ho più vita Non ho più vita Come lo combatto Come lo combatto Wow Se non altro L'abbiamo fermato Ora ti prego Caro mio Ce la fa Non ce la fa Se la fate a segnare Con sta palla Guarda dove erano E si ma sto sempre da solo E quello la intanto va avanti Mannaggia Almeno uccidi questo Per favore Fermatelo 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 Oddio Grande Oh me l'ha fermato In un modo incredibile Il primo C'è la palla Attenzione il primo Il primo Passa per No non passa per me Io sono qua Ma mi ero confuso Mi sembravo Seb Non so perché Mi ero confuso con l'altro Grande Seb Ha segnato 1 a 1 Ragazzi 51 secondi Rimanenti Ce la palla io Dai 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 che ce la puoi Dai che ce la puoi Se Gol Ragazzi Pazzesco E che si porta a casa La partita Con l'ultimo gol Con il gol della vittoria Non so come l'ho presa Però l'ho presa L'importante è averla presa Non importa come l'hai presa L'hai presa Non l'hai presa L'importante è che l'hai presa E che hai fatto gol E anche questa Ce la portiamo a casa Vai Se Grado 12 Addirittura Wow A questo punto io direi Di fare una cosa Molto ma molto tranquilla Ovvero Provare a giocarci Una sopravvivenza Visto che A raffagemme L'abbiamo fatta Foot brawl L'abbiamo fatta Ci rimane La sopravvivenza E la facciamo Anche Chissà magari La vinciamo Regà io con la sopravvivenza Non me la cavo tantissimo Come già detto prima Perché Perché alla fine Io non è che sia il top player Di Brawl Stars Ecco poi Il mio brawl Non è potentissimo E quindi Un pochettino Di fatica La faccio Però Con un po' di tattica Un po' di fortuna Possiamo provare a vincere Anche se più che tattica Ci serve anche Molta ma molta fortuna Intanto ci pigliamo qui Questi punti Energia Che non vanno mai male Che poi punti energia Regà Se qualcuno di voi sa Cosa servono in questa modalità I punti energia Lo scriva sotto nei commenti Perché Io ancora Non l'ho capito bene Cioè Mi sembra di aver capito Che tipo Mori in grande L'ho ucciso Forse è la volta buona Regà Forse è la volta buona Qui dobbiamo scappare Però perché Sto qui Mannaya Spara spara No 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 Ti prego T'ho chiamato In causa Grande Scontro finale Di già E che Oh madonna Si No raga Mi è fonte questo Mi scioglie C'ha 9 C'ha 9 punti Aiuto 9 punti E 7000 punti vita E vabbè Che c'è dovevo fare C'ho provato raga 9 punti energia C'è va Però sono arrivato secondo Non male Ma se vede che c'è Ne andiamo a fare un'altra Comunque mi ha dato più 6 Perché anche la seconda posizione Comunque la prende per vittoria Andiamo a farne un'altra va Oddio mi era volato il telefono di mano Questo sempre perché devo fare il deficiente Andiamo a giocare ancora Io direi che un'altra partita Ci sta Perché ci sta Sopravvivenza in solo Di nuovo Comunque si vi stavo dicendo I punti energia A me Mi sembra di aver capito Che tipo servono Per Ricaricare O la vita Oppure La barra quella Per sparare No Più velocemente Quindi Secondo me Più punti energia Hai Meglio te la cavi Ok Questo qui mi ha cominciato a sparare per primo Quindi Probabilmente Ci potrei morire Non so perché 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 scusami Ma non è giusto Allaccato qui Allaccato non è colpa mia Avete visto tutti Ci aveva Novecento di vita No 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 Novanta ci aveva di vita Ci aveva novanta Magicamente è salito a duemila E mi ha ucciso A questo punto io direi Andiamo a farci un altro Foot Brawl E poi Andiamo ad aprire Queste casse Ok Ci siamo Foot Brawl Dai E nitta Forza che ce la facciamo Dobbiamo di nuovo segnare noi Sono morto E mi hanno smitragliato male Regà Chi è che c'ha palla Nessuno Allora Aspettate un attimo Che arrivo io No 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 Quello lì è cattivo Dobbiamo fermarlo Regà Dobbiamo fermarlo Vai L'ha lanciata Non so se ho sbagliato Cosa ma L'ha lanciata E questa cosa è buona Dobbiamo fermare anche Quel tizio lì Gli lancio Gli lancio un bel Brawl Di questo qua Ok Prendi E adesso Il mio orso Sarà la mia difesa Vai Vai qua Quel gol No Si Ho detto si ferma sulla linea Talmente sono sfigato Invece no Ce l'ho fatta Prendiamo palla di nuovo No L'ho lanciata per sbaglio Regà L'ho lanciata per sbaglio Prendi palla Prendi palla Si 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 I gol Segno De volte Ragazzi E perché non sono il migliore Scusami Ah Ho fatto due gol su due Che vuoi di più Bellissimo Bellissimo Vabbè Andiamo ad aprirci Questi bauli E vediamo un attimino Cominciamo con le casse Quelle gratis Ottenibili con 100 punti E apriamola Vediamo un attimino Cosa troviamo Ok Punti energia per bull È il primo Non ci interessa Uh E tre gemme bonus Interessante Ciò che vogliamo noi Sono i punti Per potenziare Nita I punti energia per Nita Di nuovo il primo Eh niente Bombardino È di nuovo tre gemme Grande E invece facciamo Uno spacchettamento gratis Ma dai 13 Bombardino Shelly Oh Tutto tranne Nita Che poi forse su queste casse Brawl Non si può trovare Colt Ok E bombardino Il bombardino L'ho appena sbloccato Ok E già ho tutti i potenziamenti Possibili e immaginabili Bull Nita Più 25 Vai Nita Dammi qua Dammi altri Nita Colt di nuovo È di nuovo tre gemme Regà Pazzesco Qui a tre gemme A tre gemme Siamo arrivati a 17 gemme Non vorrei dire Apri qua Vediamo Ok Nita Più 6 No Perché non mi davi di più È colt E vabbè È di nuovo tre gemme Mamma mia E vabbè Andiamo ad aprirci Questo qui E in questo qui Potrebbe gelarsi Il brawl Legendario Chi lo sa Andiamo ad aprirlo Vediamo un attimino Già 64 monete Niente male 11 punti energia Per Bull 12 per Nita Ciao Molto buono E qui potrebbe uscire Il brawl Niente Colt Avrei preferito Trovare un brawl Legendario Visto che non ne ho Nemmeno uno Va bene Neanche Nita Mi so potuto potenziare Quindi ragazzi Che dirvi Fatemi sapere Se il video vi è piaciuto Lasciando un bel like Oggi abbiamo Giocato Un pochettino A brawl stars Abbiamo vinto Un paio di partite Abbiamo sperato Di trovare Brawl Legendario Ma niente Non l'abbiamo trovato Quindi mi raccomando Superiamo assolutissimamente I 150 like Se volete altri video Su brawl stars Mi raccomando Controllate che il like Si è andato Cliccatelo per benino Finché non diventa blu Inoltre condividete Questo video Poi non lo faccio Tutti i vostri social Iscriviti al canale Per non perdervi I prossimi video Quindi Se volete passare Dal mio profilo Instagram Dalla mia pagina Di Facebook Trovate il link Sotto nella descrizione Iscrivetevi Tutto Bella ragia Ciao 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 Ciao